Guidare di notte può essere pericoloso. Uno dei rischi è la scarsa visibilità che rende difficile individuare i pericoli della strada. Ring Automotive presenta Xenon Max, la prima lampada omologata in grado di offrire fino al 100% di luce in più sulla strada, così potrai vedere i potenziali pericoli in anticipo e più chiaramente. Xenon Max fornisce inoltre un migliore riflesso dai segnali stradali orizzontali e verticali. In questo modo avrai più tempo per reagire quando necessario. Xenon Max, la scelta definitiva per chi desidera le massime prestazioni di luminosità. Visita il nostro sito web.